Non si può vigilare sulle opinioni dei ragazzi a scuola! Non si può! E lei da ministro non lo deve consentire! Peraltro, ministro, non la preoccupa che la Digos entri a scuola per verificare cosa è accaduto durante un'ora di lezione. Perché quando invece un docente inneggia apertamente al nazismo nessuno se ne occupa? Lei da ministro non è preoccupato del fatto che la Digos chieda alla dirigenza scolastica che cosa è accaduto in un'ora di lezione. Lei non è preoccupato per l'autonomia degli insegnanti, per la libertà dei ragazzi. Lei non ha detto una parola su questo, non ha espresso un'opinione su questo. Lasciate in pace la scuola, toglietevi le manie di controllo sulla scuola e preoccupatevi della qualità del sistema scolastico che forse l'educazione civica, ancor più che ai nostri ragazzi. Serve a lei e al vostro governo. Grazie.